ciao a tutti sono qui in macchina in attesa che arrivi l'amico marco perché siamo prossimi per partire per il lungo ponte pasquale ci attendono due tappe oltre il confine italiano precisamente slovenia e successivamente in croazia punteremo inizialmente a postumia dove domani sabato visiteremo prima le grotte e poi l'adiacente castello di pregiama successivamente di domenica ci sposteremo in territorio croato per visitare il parco naturale di plinice torneremo a casa il lunedì dell'angelo e in base al tempo al traffico ed altre variabili decideremo se fare qualche tappa intermedia oppure fare una tirata semi unica fino a casa vediamo un bellissimo weekend immersi nella natura sicuramente ci saranno bellezze da lasciare quasi a bocca aperta e speriamo solo di divertirci e che vada tutto per il verso giusto intanto aspetto e ci aggiorneremo durante il viaggio prossimamente ciao a tutti eccoci qua ciao a tutti sono marco siamo sull'a4 abbiamo appena superato venezia adesso direzione trieste manca ancora due ore poco più di due ore ciao ok ce l'abbiamo fatta siamo appena passati oltre confine italia slovenia un controllo di quelli allucinanti siamo domandati ma questo è confine si si è confine era praticamente una tettoia siamo passati sotto tutto qui ora stiamo siamo fermi un attimino al primo benzinaio al di là del confine per prendere un ticket che ci consente di percorrere tutte le strade qua del paese intanto c'è lì un casino dove marco si è fermato a giocare un attimo mi calero e appena tornerà ci rimetteremo in viaggio per postumia teoricamente ci mancano 56 chilometri e 38 minuti di percorrenza quindi è questione di poco poi cercheremo l'alloggio e da mangiare a più tardi ciao e dov'essere qui dentro da un fosso mentre la tua destinazione si troverà sulla sinistra e dov'essere qui dentro da un fosso arrivati proteus eccoci qui finalmente quindi siamo partiti alle due del pomeriggio sono le 18 50 con due soste direi che va bene parking parking adesso ci giriamo qui ho già trovato una pizzeria ecco qui va benissimo no pizzeria 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 caffè munutka musica mica male bello si musica 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 ciao a tutti è sabato mattina siamo già in terra slovena a postoina come paese e volevo farvi vedere velocemente dove abbiamo pernottato questa notte e la notte che verrà musica 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 il tempo non è dei migliori però non piove al momento musica 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 Grazie a tutti. 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 E' bello e interessante, l'unica cosa è la fretta che ci mettono perché non puoi goderti fino in fondo le bellezze di queste colonne che vengono giù dall'alto, dal basso, da tutte le parti. E ora? Adesso ci tocca souvenir e strasciare di carta. Ma quanto è grande. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.